Il Signor Fierro Per vedere una bella signorina e per definirla basta definirla con una lina E se la ragazza chiede una pelliccia di bisone? Signor Dante Maggio è vero che vuole abbandonare il teatro per un negozio di frutta? Un negozio di frutta? Sì Io all'estero faccio latture perché posso ancora difendermi a fare latture In Italia sono costretto a fare il fruttarolo e me ne vanto Vorrei che tanti miei amici e colleghi mi imitassero E saluto tutti i fruttaroli di Roma Salve a voi! Salve a voi! Ci vediamo a ritorno E quando ritorno non farò più latture Farò fruttaiole